Alessio Natalini, ripartiamo da quel gol che ha sbloccato la marcatura contro il San Vito. È stata più difficile del previsto andare in gol, però poi la partita si è messa in discesa. Sì, abbiamo creato molto. In primo tempo, sotto la nostra curva, abbiamo creato tante occasioni da gol. Vuoi per un po' di sfortuna, vuoi per la bravura avversaria. Abbiamo sbagliato qualcosina, però è andata bene, è stata un'emozione bellissima segnare sotto la curva. Ti riguarda anche da vicino, due difensori sono andati in gol, tu e Gian Cristoforo. Questo che cosa significa? Significa che accompagniamo bene la manovra, soprattutto per quanto mi riguarda era un calcio piazzato. Invece per quanto riguarda Mimmo, avendo anche una posizione più laterale, essendo un terzino hanno dato una mano con la spinta. Però a prescindere dal ruolo, la cosa buona è che comunque accompagniamo tutti l'azione offensiva, abbiamo tutti voglia di far bene. Ecco Alessio, una settimana di pausa. Può in qualche modo cambiare qualcosa negli equilibri generali della squadra, oppure è un punto di forza perché si può fare ad esempio un richiamo atletico? Eh, infatti proprio con il prof, con il mister abbiamo lavorato dal punto di vista fisico questi due giorni intensamente, proprio per sopperire alla partita di domenica che non faremo. Ma io penso che, certo, noi vorremmo giocare sempre, però è andata bene anche così. Si sta creando ancora di più l'amalgama per questo gruppo, dove può arrivare il Lanciano 1920? Ma dove deve arrivare ce lo siamo prefissati a inizio dell'avventura, dove abbiamo deciso tutti quanti di rimanere. Quindi sappiamo dove dobbiamo arrivare senza fretta. Sappiamo che probabilmente ci saranno anche partite meno semplici, però l'obiettivo è unico e faremo di tutto per perseguirlo, insomma. Grazie a tutti.